Ciao a tutti ragazzi, sono Nicole e questo sarà il primo video in assoluto che caricherò sul mio canale. Allora, ne ho già preparati altri di video, perché ho visto che sono un po' lenta a editarli, a montarli e tutto il resto. Ho davvero tantissime idee per questo canale, però mi farebbe piacere sapere anche voi se avete delle preferenze o delle richieste particolari su cosa vorreste vedere. Io allora ho già varie idee, farò sicuramente dei video appunto spacchettamento, mi è arrivato giusto ieri questo pacco, quindi farò appunto dei video in cui spacchetterò le cose perché faccio un sacco di acquisti in internet. Farò video challenge, ne ho già preparata una con il mio migliore amico, quindi sicuramente ci saranno appunto dei video così. Ho anche preparato un vlog quest'estate perché sono andata a Gran Canaria con il mio ragazzo e quindi ho preparato anche un vlog. Poi in realtà non credevo assolutamente di fare un video presentazione, quindi stavo cercando quello giusto, quello che potesse dire ecco questo è il mio primo video, però non ce n'è neanche uno e quindi ho dovuto per forza fare anche questo. Sono molto molto contenta di cominciare questa esperienza su YouTube, è da tantissimo tempo che vorrei fare dei video, però per una cosa o per un'altra non ho mai cominciato, un po' magari il tempo che mancava, un po' la timidezza, un po' tutto, mi hanno sempre bloccata dal fare dei video. Però siccome è una cosa che mi piacerebbe davvero molto, ho detto lo faccio e non importa. Se volete cominciare a seguirmi, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, vi lascio ovviamente i miei social qui sotto, ci vediamo al primo vero video di questo canale. Ciao ciao!